C'è anche teleamera, vediamo No, 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 è il momento Nulla teleamera accese Oh, è il fatto via questo buongiorno a tutti ragazzi bentornati sul canale oggi siamo in zona da noi a fare una girata a cintoia garis cosa c'è la cintoia che c'è la sorgente ha studiato ha studiato anche lui l'acqua ci davano a scuola ve la ricordate se voi siete della generazione mi hai ascoltato prima mentre parlavo oppure ma la so anch'io me lo ricordo era tipo bianco e verde si bravo e dentro c'era un po' di luco Ilario ma te te non hai bevuto l'acqua? no meno male vedi qua come si cresce quando? è la sua vorrei dove si deve andare ridete ridete ragazze invece ora guarda lì a tattà ecco questa è anche interessante questo è l'eleboro 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 detta anche rosa d'inverno la foglia che si apre come un bocciolo di rosa vero e questa è quella diciamo la versione servatia e quindi si trova in natura poi c'è quelle quelle ibride si trovano dai dai viva ii sono tutte colorate anche molto belle e la la particolarità delle foglie vedi che si aprono non sono... parla una foglia di canna ma sei sicuro che sono una pianta di cannabis? ah no vabbè bellezza adesso cambiando un attimo argomento uscendo un po' dalla natura questo scempio come me lo definisce professore? eh questo questo è un cinquantino? no mi pare se un cinquantino la marmita mi sembra parecchio più grossa e ha preso vedi quel rugginevole in terra questi si trovano molto bene per l'ambiente circostante ma è terribile direi che ci può stare? è una gran arte quasi contemporanea no fa bene fa bene un po' d'argilla sui ginocchio è vero è quella che guarisce alla fine comunque da problemi tu vai in una spada e la fanno pagare 100 euro 100 euro in grammo quindi venite con noi a curarvi le ferite che c'è? punti topo punti topo punti topo musica 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 io le hai portate in costume? si si assolutamente con questo caldo come il bagno ragazzi venite venite e ora? ma ora ci si tuffa ora ci si tuffa? aspetta vediamo ahl'altro fondo ahahahah no perche passi la? sei arrivato su torda ahahahahah Ci siamo, ci siamo Io quando ero piccolina ho fatto il bagno nella pozzanghera Era estate, ero piccolina e mi sono divertita tanto Tipo cinghiale che rotola nel fango Che cosa ho ripilante? Stronzo Sei uno stronzo Esisterà? Sì Amore fai Peter, fai Peter No Mi piace Peter a me Meno male Non lo fare, non lo fare Che succede? Che cos'è? È un dono questo È un dono, sì, è una È il loro bianco Il picchio Il picchio Sì Sta picchiando sui legni Meカ ? Me див mora Mi fantasy C'è un dono C'è un dono SUBSCRIBE Grazie a tutti Grazie a tutti Senti io? Fischietto, sì 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 Stanno arrivando come i cani da riporto Con questo fischietto probabilmente fischi tre volte e la ragazza ti ritorna appresso Vediamo se funziona Perché ancora non si vedono Sembra che ci sia movimento Eccole Che situazione Oggi è l'8 marzo Volevamo farvi Auguri Auguri a tutte le donne Ecco appunto abbiamo svegliato praticamente mezzo paesino Qui siamo nei vicoli bui A tagliare? Dove siamo finiti? Maledetta ma andò Ma dove siamo? No guarda bello qua Avevo ragione I viceni Non attignano dalla pianta Prendono semplicemente Sono degli organismi viventi Che vivono in simbiosi Ovviamente ci sono i funghi e le alghe Che vivono insieme praticamente Nell'ichene Quindi Diciamo che Il fungo assorbe l'acqua e sali minerali E l'alga invece fa la fotosintesi Entrambi gli organismi non fanno Non hanno altra caratteristica Quindi devono vivere insieme per prendere tutti e due i benefici Per questo sono simbioti Ognuno ha un ingiovamento Dallo stai insieme all'altro Non si vede dove finisce uno e dove inizia l'altro Perché è un organismo completamente unito Di sotto questo aspetto Però diciamo che La parte esterna è quella dove si è trovato il fungo E la parte interna è dove si è trovato più larga O c'è un batterio E appunto Possono vivere anche più di mille anni Questi organismi Allora uno Due Tre Quattro E cinque Beh Quattro 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 Andate Avete capito dove mettere i piedi? O no? Dobbiamo essere sinceri Sono stati chiari ragazzi? Sì Finalmente abbiamo trovato anche il vecchio ponte Dopo un po' che si riusce Eccolo qua Garis vieni qui Insomma ma In che posticino ti ho portato? Mamma mia spettacolare Com'è? Com'è? Da dieci eh? Da dieci Mancherebbe soltanto una volta ora Che manca? La birra Dove sono andate? Bimbe? Dove andare? Ci si vede? Ciao Ciao Andate a sezzate Qui siamo al castello Queste di sezzate Eccolo e dopo gli ultimi metri finalmente siamo arrivati in fondo questa gita abbiamo visto molte cose belle e tanti paesaggi davvero suggestivi anche della nostra collina se vi è piaciuto il video ovviamente vi ricordo di mettere mi piace e seguire il canale e se volete fare qualche gita e passeggiata con noi mi raccomando fatemelo sapere che comunque sotto c'è tutti i miei contatti nel profilo mi raccomando seguiteci sempre ciao ragazzi ci siamo ciao 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 ciao